In tutti questi anni non avevo previsto che sareste venuti qui. È stato tutto un errore, a cui oggi rimedierò eliminandovi. Che ne dite di adularla ricoprendola di complimenti? Potrebbe funzionare, no? Non è proprio letale, ma mi farà guadagnare tempo. Non sopporto chi fa battute sul mio nome. Diamo un'occhiata. I vostri scorsi mettono ancora più in pericolo il genere umano. Grazie per avermi salvato. Non posso restare con le mani in mano e lasciarvi fare. Un metodo barbaro, ma sono certa che andrà più che bene. Dì, è un'occhiata. Inizioni finite! Contratti! Queste creature non dovevano esistere. Perlomeno ci saranno utili. Non fuggirete mai. Via da qui. Un piccolo passo verso la libertà, ma purtroppo... Non posso proprio concedervela. Da questa parte! Deve esserci qualcosa più utile qui. Aspetta, dire che sono scadenti è dire poco! Su, arrendetevi. Su, arrendetevi. Chiusa! Chiusa! Ma il Tria, ho la pelle d'oca. Si passa al minimo contatto per averlo scinti! Accogliete la vostra morte. Diamo un'occhiata. Flash! Flash! Pronto! Prendete pure la sua tessera. Prendete pure la sua tessera. Intanto il virus vi divorerà dall'interno. Sopera! Oh, oh! Ah! Oh! enorme vantaggio non sopporto ti fa battere sul mio nome ah sono i botticelli dei poveri aiutami che guardoni avvicinatevi a cura ma gli estremi estremi rimedi mi sorprende che siete arrivati fin qui serve un cambio di strategia posso occuparmene io stessa a a a a a a William, puoi ancora aiutarti? Credo sia il momento di dire basta. Non mi avrete! C'è ancora quanto volete, ma non me ne starò per valutare. Dov'è stata la pinna! Voglio flessarli, cioè accecati! Sono in fetta. Devo stare attento. Mamma di estremi! Estremi rimedi! Sono in ecstasy! William, mettiamo la parola fine a questa storia! È impossibile. Non posso crederti! È davvero una delusione! Mi sento morire! Mi sento morire! Mi sento morire! Sì Oh, no. Andiamo! Su, arrete! Sono in ecstasy! Andiamo! Le armi biologiche di questa ricerca sono una minaccia per il cuore. La vostra morte sarà un ulteriore problema. Siete pronti? William, una volta eliminate le tracce del nostro passato, potrai riposare anche tu. No! Rai il cuore. Siete pronti? Siete pronti e venite! Stai meglio adesso! Tutto il rumore è la norma! Perfetto! Deve esserci qualcosa di utile qui! Sono in ecstasy! Grazie a tutti. Non mi avrete. Chissà se quella roba che avevano è contagiosa, perché io odio le malattie. Così le vite di quattro mocciosi valgono più di tutto il genere umano.